TENTATION ISLAND VIP Sirius e J. Magalgani tra i candidati Tutto è quasi pronto per la prossima edizione di Tentation Island VIP. Nei giorni scorsi infatti è stato annunciato che probabilmente verrà trasmesso su canale 5 a settembre e che alla guida del viaggio nei sentimenti ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi. Incertezze invece ci sono per quanto riguarda il cast, ovvero quali saranno le coppie VIP che metteranno alla prova il loro amore. Tuttavia c'è una clamorosa indiscrezione, pare infatti che una delle coppie al centro del gossip, di Uomini e Donne Over, sia pronta a partecipare. Di chi parliamo? Si tratta di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius. Se tali rumors venissero confermati, si tratterebbe sicuramente di un bel colpo. Tale coppia da settimane ha catalizzato l'attenzione nel programma di Maria De Filippi. Ha fatto infatti molto scalpore la frequentazione dei due, vista la notevole differenza di età. Lei ha più di 70 anni, mentre lui appena 26. In moltissimi si sono espressi su questa relazione, accusando lui di essere in cerca di visibilità e lei di aver completamente perso la testa. In realtà però va aggiunto che i due si stanno frequentando anche senza le telecamere. Che quindi Nicola Vivarelli abbia un sincero interesse per Gemma Galgani, nonostante tutto? La partecipazione a Tentation Island VIP potrebbe essere una buona occasione per verificarlo. E' inutile dire che tale indiscrezione ha fatto immediatamente il giro del web e molti influencer si sono espressi a riguardo. Amedeo Vezza, per esempio, ha commentato così la loro possibile partecipazione. Il commento ovviamente era ironico, ma rende bene l'idea del senso di sgomento del ragazzo, che è simile a quello di molti. In pochi infatti credono nel reale interesse del ragazzo per la dama torinese. Occorre attendere la conferma per averne la certezza. Nel frattempo ci sono altre indiscrezioni su un'altra coppia che potrebbe essere pronta a sbarcare. Quella fornata da Antonella Lia e il fidanzato Pietro delle Piane. La showgirl è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, dimostrando tutto il suo carattere e la sua forte personalità. Il fidanzato invece è stato accusato di averla tradita, mentre lei era dentro la casa. Insomma, anche in questo caso, se questa coppia prodasse a Tentation Island VIP, il trash sarebbe assicurato. Cosa pensate di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Tentation Island VIP? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. iscriviti al canale e ricordati al canale? Insomma, ciao! Grazie.